I personi nascono in una fortezza a Napoli, il maschio angioino, principe e socio M. È il racconto della vita di un giovane meridionale dei nostri tempi, onesto, idealista e non violento fino alle ultime conseguenze. Di Spenillo De Carmine, targato Na, dirige il maestro Walter Vincenti, buonasera, principe e socio M. C'era una volta una mentalità, una canna, due stanze e 43 amici, una candela e tanta voglia qua, un burdel chiamato la rivoluzione. Ciccio fra tutti era targato Na, non capiva però gli piaceva fumare, aveva agli occhi la felicità, è un boccione paesano, basta questa canna. Slogan bandiere, tanti capiche, tutti bravi a parlare, tutti a comandare, menti borghesi e figli di papà, che si armarono tutti con spranghe e pistole. Ciccio pensava ma che stanna fa, non capiva e perciò continuava a fumare, tutti si alzarono e deciso già, via la rivoluzione ci va Ciccio Terrone. Fammi sparire, fammi sperare, fammi quello che vuoi, ma non farmi sparare, fammi tradire, fatemi odiare, famma che il govù, ma non voglio sparare mai. Ciccio volto le spalle e se ne andò, e sperava nel giusto, cercando un mestiere, e dopo 86 concorsi entrò, arruolato nell'arma dei carabini. Si mise col fumo e poi si innamorò, di un carabiniere del basso treviso, addestramento e infine poi giurò, e ad un tratto lo armarono per intervenire. Fammi sparire, fammi sperare, fammi quello che vuoi, ma non farmi sparare, fammi tradire, fatemi odiare, fammi che il govù, ma non voglio sparare. Fammi sparire, fammi sperare, fammi quello che vuoi, ma non farmi sparare, fammi tradire, fatemi odiare, fammi che il govù, ma non voglio sparare mai. C'era una volta una mentalità, una canna di mitra e di fronte due amici. Ciccio sapeva troppe cose ormai, salutò il suo cane, chiuse gli occhi e disse vuoi sparare. E la sua anima poi si innalzò, verso il cielo del sud, per il paradiso, un angelo armato, Gesù, tu diventerai, era il padre eterno che gli fece un sorriso. Fammi sparire, fammi sperare, fammi quello che vuoi, ma non farmi sparare, fammi tradire, fatemi odiare, fammi che il govù, ma non voglio sparare mai. Fammi sparire, fammi sperare, fammi quello che vuoi, ma non voglio sparare mai. Buonasera, buonasera ragazzi. Allora, vi è successo qualcosa di curioso, mi hanno detto sulla passerella, è vero? Cioè la passerella dei cantanti che noi vediamo nella sigla ogni sera. No, visto che non ho fatto il militare, no? Quando ho fatto la passerella è come se l'avessi fatto, quasi. In realtà c'era questa cosa, eravamo un po' impacciati, poi le nuove leve insomma che sfilano e ogni tanto ci giravamo pensando qualcuno ci riconoscerà, chiederà una rogo fra nessuno, chiaramente. Poi c'è stata una ragazza, scusa, scusa, ci siamo girati con la penna, mi chiami Britti? Ma questo non accadrà più dopo domani sera, perché ovviamente domani sera vi riascolteremo tutti insieme e vedrete che sarete molto, molto, molto popolari. Arrivederci e grazie. Vorrei salutare Radio 1, sulla quale siamo in diretta tutti i giorni, tutte le serate del festival.